Il corpo ha elaborato un nuovo codice basato sulla lingua navale. Cei-ta-ha-ti. Tartaruga. Mai, in nessuna circostanza, lei dovrà permettere che il suo uomo cada nelle mani del nemico. Mi hanno colpito! La sua missione è di proteggere il codice a qualunque costo. Ho degli ordini, signore. Lui è sotto la mia responsabilità. Tu fai soltanto quello che devi fare, sergente. Niente di più, niente di meno. Wing Talkers, mercoledì alle 21.10 su Rai4.